La serata speciale ad Alzano si ripete da ormai diversi anni, questa camminata in centro, anche numerosa la gente che è a corsa. Ecco, su cosa vi siete orientati e concentrati per questa serata? Ma noi ogni anno, da quando abbiamo inaugurato la panchina rossa ormai diversi anni fa, ci concentriamo innanzitutto sulla commemorazione delle vittime dell'anno e quindi leggiamo una per una i loro nomi e deponiamo questo mazzo di fiori in loro ricordo. È un piccolo pensiero che però come amministrazione comunale ci sentiamo di fare. Sì, in aggiunta a quest'anno abbiamo uno spettacolo organizzato con il collettivo delle Zitelle che si terrà al Parco Montecchio, all'associazione, ex associazione pensionati, ora centro di tutte le età. Sarà uno, chiamarlo spettacolo mi risulta un po' così, ma di fatto è uno spettacolo. Sono Romina che per tanti anni è stata vittima di violenza del suo ex marito, che porta un pochino la sua storia e fa, insieme con altri due attori, porta questa rappresentazione. Il Sinaco ha anche ricordato che ci sarà comunque, avete preso una scelta come giunta anche nel rispetto delle donne. Sì, abbiamo presentato una mozione proprio stamattina perché venga riconosciuto anche a livello di statuto comunale. Noi ricordiamo che siamo uno dei pochi comuni, forse l'unico comune, che ancora oggi ha uno sportello di assistenza alle donne e gestito direttamente da una nostra volontaria e siamo orgogliosi di questo e di questo dobbiamo dire solo grazie a lei. Come funziona questo sportello? Allora, questo sportello è aperto ogni mercoledì mattina dalle ore 8.30 alle ore 9.30 in Palazzo Pelandi, in via Mazzini 17. Però la cosa importante è che se una donna non avesse possibilità di venire in questa fascia oraria può chiamare i servizi sociali del comune e chiedere eventualmente un altro appuntamento. Loro mi avvisano e io, in base proprio alle possibilità, visto che sono pensionata, cercherò di accontentare queste donne giustamente che hanno bisogno. Come sta andando questa esperienza nel corso degli anni? Allora, dunque è dal 2014 che l'abbiamo aperto, in dieci anni ho visto 14 donne. Adesso da un po' di mesi non ne vedo, però ne ho viste 14. L'esigenza che quindi questo territorio ha comunque? Sì, diciamo che secondo noi sarebbe molto importante anche che ci fossero altri sportelli. Il nostro informativo chiaramente perché poi indirizziamo le donne all'associazione Fior di Lotto, però una donna che arriva già da noi è già un primo passo importante.